Ecco qui con la Riva, la Siracusa, la Buongiorni, buongiorni fratto figlia d'Arse e la Gloria Hooper Ragazze allenate da Marco La Rosa, da Vanna Radi, da Roberto Bonomi e da Lauren Seagrand, Gloria Hooper che andrà a chiudere Roberto Bonomi che allena la Svizzera R3, Norvegia, quello che parevo, intanto non si fa una bella risata qui Stafinista americana, questa è la Tarmu, Norvegia in seconda con lo che parevo in ultima Canada in terza, Stati Uniti in quarta, Jamaica in quinto, Svizzera in sesta, Trinidad in settima, Trinidad e Tobacco e Zurre in ottava Partite, come si comporta Giulia Riva Ovviamente viene rimontata da Trinidad, primo cambio dell'Azzurre ed è un cambio un po' lungo Comunque viene messo in movimento la Siracusa ma si mette in movimento anche la Jamaica Che appare in vantaggio sugli Stati Uniti Ha tititato la Buongiorni per le Azzurre, non malghere la prova delle Azzurre che sono in linea Un buon piazzamento con la Jamaica qui nettamente in testa, Charlie Alfreds e Price è partita la Buongiorni per i Stati Uniti E la Jamaica che va a vincere nel tempo di 41.60 Le Azzurre finiscono al quinto posto, direi era il loro piazzamento Quinto posto per le ragazze azzurre, vedremo adesso il tempo che hanno realizzato Bene anche